C'è una copertina che non avete mai visto. È la prima copertina di carta al mondo ed è una vera rivoluzione verde. Infatti proviene da foreste gestite in maniera responsabile e aiuta la riforestazione dell'Alta Badia, devastata dalla tempesta Baia. Naturalmente è riciclabile al 100% e si smaltisce con la carta. Si chiama Colorosa Green ed è la prima copertina di carta al mondo in dieci fascinosi colori pastello. Parlerà i cartolai. Affascinerà il punto vendita. Conquisterà gli occhi e il cuore di tutte le mamme. Colorosa Green, la rivoluzione verde che fa scuola. Grazie.